Ben ritrovati a Tamburo Battente. Abbiamo ricominciato, ricominciamo la stagione con Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Tele Liguria Sud e ovviamente abbiamo come ospite della prima trasmissione di questo autunno-inverno il sindaco Pierluigi Perachini che ringraziamo perché lo abbiamo sottratto, è appena tornato da Roma dove ha partecipato all'incontro con il Papa insieme ad altri 100 sindaci italiani e sta per partire credo per Assisi dove andrà a portare l'olio della Liguria, per la lampada votiva di San Francesco. Quindi grazie sindaco di aver scelto questa trasmissione come primo appuntamento televisivo con Tele Liguria Sud e ovviamente cominciamo subito dopo circa 80-90 giorni che si è insediata il Consiglio Comunale dicendo una cosa che è un po' sotto gli occhi di tutti, la sua scommessa. Non l'ha ancora vinta però sta tentando di vincerla ed è quella della pulizia della città. Lei in campagna elettorale l'ha presa proprio di petto questa cosa e forse è stata l'arba vincente che ha fatto salire il 60-40% di partecipazione alla sua lista, 60% e 40% a quella del centro-sinistra sulla questione della pulizia della città. Ce n'era bisogno, ce n'è ancora bisogno perché la battaglia non è ancora vinta, forse non è la rivoluzione che aveva promesso perché ha detto da luglio si cambia completamente tutto, però qualcosa si sta cominciando a vedere. Cosa ci aspetterà? Beh, innanzitutto è chiaro che non abbiamo vinto solo per la spazzatura ma siamo partiti da lì per dare un segnale di pulizia di civiltà e abbiamo fatto che cosa? Pulizia straordinaria in ogni quartiere, ci vuole tanto tempo perché la città era abbandonata da anni, non sono state fatte pulizie straordinarie, abbiamo un programma di lavori che va fino a primavera e poi un maggior ritiro sostanzialmente dell'umido, un maggior passaggio delle squadre d'emergenza pomeridiane a ritirare quello che non è fatto al mattino oppure in situazioni quando i cittadini buttano, lanciano una spazzatura perché questo è un altro di quei temi che bisognerebbe poi porsi delle domande e in più abbiamo rifatto il progetto per il 2018, un progetto che vista la situazione di Acam, quindi non siamo potuti passare di colpo a tutti i casonetti perché necessitava questo sistema un investimento di 12 milioni di euro e non solo una soppressione di 2.000 posti auto, non solo c'è tutto un problema legato al raggiungimento della differenziata parli al 65% per legge e anche all'occupazione però sinceramente di fronte a una spesa che i cittadini spezzini sopportano i 25 milioni mi sembra che le risposte andavano date in modo immediato indipendentemente da altri aspetti cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di mantenere il porta a porta e integrarlo con un sistema di raccolta differenziata di bidoni intelligenti tipo Porto Venere in 15 siti dentro il centro storico e in 21 in tutti i quartieri della città in modo che in qualunque ora del giorno e della notte ogni cittadino potrà andare a smaltire a seconda delle proprie esigenze quindi la priorità è il porta a porta implementata, incrementata da questo sistema che è molto flessibile che darà le risposte che necessitano ad ognuno poi vedremo come andrà a fine 2018, se c'è bisogno di due modifiche si faranno sinceramente il nostro obiettivo è avere una città pulita, avere una città bella a disposizione dei cittadini e non l'incontrare possibilmente con una tariffa che calerà e non aumenterà Ecco, in questi primi giorni, i primi mesi diciamo di amministrazione le cose che sono venute fuori dall'opposizione una posizione molto silente devo dire in questo periodo a parte un po' la sinistra, proprio sinistra e l'unica cosa che è venuta fuori è questo piano regolatore che voi l'avete detto in campagna elettorale che questo PUC è approvato all'ultimo momento dalla passata amministrazione avete intenzione di cambiarlo quindi sono stati interventi sul giornale dove si dice insomma volete attaccare le colline e cementificare le colline come risponde a questi attacchi? Qui c'è gente che se la suona e se la canta evidentemente non hanno di meglio da fare nella vita non vanno a leggere i programmi, non vanno a leggere quello che abbiamo scritto le linee di mandato ma soprattutto si sono dimenticati quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale io sono una persona che mantiene quello che dice di fare e fa quello che dice quindi semplicemente questo PUC o sarà fatto decadere o sarà revocato oppure sarà modificato questo è l'unico dato certo che non rimarrà questo PUC perché se no significherebbe bloccare le crociere per quanto riguarda l'investimento del cosiddetto pennello si farà questo pennello? certo che si farà questo pennello è di competenza dell'autorità portuale ma si farà perché la stazione crocieristica prevede quell'infrastruttura ma non solo si farà quello ma noi dobbiamo per forza sbloccare le centinaia e centinaia di osservazioni che ci sono state fatte, cause, contenziosi insomma è stato fatto uno scempio sia dal punto di vista del territorio non puoi mantenere un territorio se tu non fai quegli adeguamenti giusti, previsti nessun scempio, nessuna colata di cemento ma però bisogna dare anche quella flessibilità che è necessaria d'altro canto non si può lasciare l'area P così com'è non si può pensare che se io ho bisogno di un piccolo deposito d'attrezzi non lo posso fare il buon senso prevarrà cosa vuol dire? vuol dire che noi dobbiamo deliberare il piano casa anche in questo territorio dobbiamo recepire la normativa sui sottotetti anche in questo territorio e poi vediamo cosa andare a eliminare dal punto di vista dell'edificazione non più attuale quindi semplicemente ci prendiamo il tempo giusto per fare le cose bene e con il dovuto ascolto e la dovuta serietà perché noi da due mesi e mezzo stiamo ascoltando tutti proprio per poi prendere la decisione finale che non può essere presa prima del tempo non può essere presa sui giornali perché dal punto di vista giuridico ci sono delle cose delicate che bisogna tenere in considerazione ecco a proposito di cose delicate sempre a proposito di PUC ovviamente la cementificazione c'è stata sulla collina perché basta dare uno sguardo la si vede ecco chi rischia di rimanere penalizzato è chi vive e che lavora la collina e chi lavora la terra ecco troverete il modo di consentire a chi vive sulla terra di poter viverci con le adeguate strutture questa è proprio la sfida cioè hanno distrutto la collina io vivo in collina quindi con una casa del 1912 quindi so bene che cosa voleva dire abitare in collina è un posto stupendo è stato cementificato dall'amministrazione precedente hanno fatto uno scempio quando i buoi sono scappati hanno chiuso la stalla tardi e hanno colpito anche quelle poche persone che potevano far vivere quel terreno investire in prodotti agroalimentari in prodotti legati al mondo magari dell'agricoltura in senso moderno quindi compatibili con l'ambiente e con la qualità del cibo biologico che tante volte però necessita di spazi necessita di supporti e dobbiamo trovare questo equilibrio questa è la sfida nuova ecco senta sindaco però ci sono due elementi oggettivi in questa vicenda del PUC il primo elemento lancia sono i costruttori e il collegio dei geometri che chiedono al sindaco all'amministrazione di allargare le maglie per poter riprendere in maniera più seria e vigorosa la loro attività dall'altra ci sono governi di centrodestra e partiti di centrodestra che hanno sempre avuto politiche ammiccanti verso il cemento ecco questi due elementi messi insieme possono produrre delle ansie soprattutto negli ambienti ambientalisti della città nei partiti in una parte della cittadinanza che è sensibile all'ambiente e non vorrebbe veramente altre colate di cemento qua guardi che veramente le ansie l'hanno fatto venire a noi chi ci ha preceduto distruggendo questo territorio facendo le discariche dappertutto le colline dei buchi degli scandali il cemento dappertutto la mancata manutenzione dei fossi la mancata manutenzione delle strade la mancata manutenzione di marciapiedi quindi non scherziamo su questo tema perché la realtà è ben diversa bisogna tornare a una realtà normale un equilibrio tra l'uomo il territorio e la vita in una città come si fa a fare questo? lo si fa senza ansie perché con le ansie si raggiungono solo diceva Giovanni XXIII lo stato d'animo che si vive quindi col pessimismo con l'ansia bisogna lasciare da parte queste cose e bisogna ragionare noi abbiamo l'interesse e il dovere di tutelare il nostro territorio siamo ripartiti da trovare le risorse per pulire i canali dobbiamo capire però come far vivere questo territorio cioè il territorio le colline abbandonate a se stesse muoiono e franno la valle quindi bisogna cercare di farlo vivere nessuno di noi cementificherà le colline questo lo voglio dire in modo chiaro lo ribadisco detto questo mi sembra che quei piccoli investimenti che non sono di cemento ma ripeto se io devo fare un piccolo luogo per mettere le attrezze del giardino penso che sia stupido non farlo fare poi per quanto riguarda il resto della città parliamo di infrastrutture ormai le infrastrutture sono già tutte progettate delineate ci sono appalti che sono in essere altri sono bloccati e quindi quello è un tema che purtroppo va oltre la nostra volontà per quanto riguarda gli altri investimenti che sono legati al fronte a mare vedremo i progetti che ci saranno nei prossimi mesi la unica cosa vera anche qui c'era un progetto di cementificazione io tutti questi urli non li ho sentiti noi abbiamo interesse di migliorare la qualità dell'aria e la qualità dell'acqua e vedere di non scaricare più mare le fognature come sta succedendo oggi questo però è un lavorone ci vorrà tempo un bel impegno ecco senta sindaco due parole d'ordine due slogan dalla vostra campagna elettorale sono stati trasparenza e partecipazione soprattutto partecipazione che è un tema di cui in cui la giunta a Federici è stata difficitaria secondo la maggior parte delle persone dei cittadini ecco come intendete declinarla questa partecipazione su quale tematiche consultarete i cittadini e come lo farete soprattutto lo faremo quando è possibile farlo cioè ci sono degli atti che sono di nostra competenza è possibile farlo ad esempio fra poche settimane inizierà la partecipazione per la realizzazione della nuova piazza del mercato ci sono invece ad esempio altre opere che non sono di nostra competenza ad esempio l'autorità portuale mi riferisco alla fascia di rispetto di Fossamastra del Canaletto e magari anche di altre aree che si renderanno libere che non tocca a noi farle anche se noi solliciteremo chiaramente questa cosa io vi posso dire questo che da quando mi sono insediato la prima cosa che ho fatto ho chiesto all'autorità portuale di sbloccare la realizzazione della barriera fonoassorbente per quanto riguarda i rumori di San Bartolomeo e uguale ho chiesto più di una volta di iniziare questa benedetta faccia di rispetto di Fossamastra ma hanno detto che per ora non è possibile ma io sono molto sensibile a questo tema come ho detto all'Enel di andare via il prima possibile anche qui io ho letto di tutto e di più la verità è un'altra è che c'è che vuole confrontarsi voi pensate sul PUC come è stato detto prima noi abbiamo incontrato tutti veramente le persone che sono interessate tutte le associazioni i movimenti quindi da parte nostra c'è il massimo massima disponibilità al contrario di quella precedente o di chi urla ogni tanto perché così afferma se stesso ecco i comitati sono quelli che urlano che in questi anni hanno urlato molto i comitati sono stati una spina nel fianco della vecchia amministrazione magari non hanno vinto grandi battaglie ma hanno sicuramente contribuito a logorare l'immagine della giunta ecco non li teme anche lei i comitati perché poi dopo la fase delle aspettative dei sì eccetera a cominciare dalla scalinata cernaia vedo che comincia ad arrivare qualche no quindi ecco non li teme guarda un conto i comitati che portano avanti interessi del bene comune e dei cittadini un conto i comitati che vogliono fare politica ideologica e strumentalizzano ogni cosa se io ad esempio subentro all'amministrazione Federici e devo affrontare un progetto già appaltato definito quello della scalinata cernaglia blocco tutto faccio scrivere alla sovrintendenza la sovrintendenza mi risponde con un atto amministrativo chiaro io cerco di salvare il salvabile dopo un disastro che è stato fatto da chi ci ha preceduto stesso discorso vale per Piazza Verdi e per altre realtà vedo tra parentesi che mi sembra che le vecchie certe forze politiche stanno trasformando in comitati vedo nascere tanti comitati in giro per la città io ho il piacere di averli incontrati per adesso quasi tutti e ripeto perché l'interesse dell'amministrazione è quella di dare risposte vere concrete detto questo se qualcuno pensa che Peracchini dopo 50 anni di amministrazione di un certo tipo dove se ne sono sempre fregati della BC della vita di Spezia pensare che posso risolvere tutto in una settimana o un mese veramente è sbagliato anche perché soldi non ce n'è ci sono dei gran debiti ci sono degli impegni presi non finanziati quindi noi abbiamo l'interesse piano piano di dare le risposte le migliori possibili apertamente non abbiamo interesse alcune ma veramente io non ho alcun interesse a privilegiare una parte o non ascoltare le altre mi pare che la mia vita testimoni la mia capacità d'ascolto ha parlato qualche volta con il sindaco con il sindaco Federici perché ho sentito un'intervista dove lei diceva no io non l'ho mai sentito mi sembra curiosa sta cosa perché non so al governo ad esempio il presidente uscente con la cerimonia del campanello passa le consegne non è soltanto una cosa di bon ton un rito di buona educazione di buone maniere è anche un modo per trasmettere conoscenze informazioni dalla vecchia a una nuova amministrazione mi sembra curioso che non ci sia stato che non ci sia una telefonata una richiesta di informazioni di lucidazione su una pratica cose del genere niente purtroppo questa è la realtà io ho i miei valori la mia vita la mia educazione altri hanno altre sensibilità non giudico nessuno l'ho incontrato una volta dopo che io sul giornale ho detto che non mi era stato fatto neanche passaggio di consegno ma la verità non è che ho detto una bugia purtroppo questa è la realtà evidentemente uno ha finito un ciclo e ha voluto staccare completamente ecco sindaco lei ha parlato di buco di bilancio di 35 milioni no buco volevo chiedere quello è un buco o sono impegni di spesa non coperti sono debiti per 48 milioni ci sono altri impegni non messi in bilancio e quindi questa è la situazione però non è un buco di bilancio no sono debiti il buco sono spese sono spese che bisogna pagare le traduciamo così una massaglia una buona massaglia dice che deve pagare direbbe che deve pagare 48 milioni che poi uno dice è come un mutuo sì è come tanti mutui sono 48 milioni da noi entrano 50 milioni di tributi all'anno perché la tariffa sui rifiuti è una partita di giro e quindi capite bene di cosa stiamo parlando per far capire anche ai nostri telespettatori ma sono impegni cui voi dovete far fronte questi 30 centi sono mutui che dobbiamo pagare quindi dovete pagare è mutui capitale più ci sono gli interessi 48 milioni sono mutui più ci sono gli interessi poi ci sono gli impegni firmati che non previsti in bilancio e che quindi devo trovare anche quei soldi quindi per quello che magari uno dice io volevo no azzerare il pasto per i bambini a scuola volevo dare segnali forti subito di riduzione delle tariffe ma non è possibile finché non mettiamo a posto la questione di questi costi fuori controllo insomma in questi parametri ci sono anche gli accordi con la Marina no quelli sono oltre oltre ci sono gli accordi e i contratti firmati con la Marina che devono essere onorati speriamo di poterli onorare ci vorrà un po' di tempo quindi chiederemo pazienza alla Marina l'abbiamo tanto maltrattata non certo da parte mia e poi dopo magari firmiamo le cose hanno firmato le cose in campagna e la questione università invece è fuori hanno firmato le cose in campagna elettorale cosa già sgradevole di per sé senza mettergli soldi la cosa l'università il polo universitario il polo universitario è un polo che sostanzialmente lì abbiamo è stato firmato l'amministrazione precedente un impegno di realizzare una palazzina per ambulatorio a Marina Militare sinceramente non ho trovato neanche il progetto non solo i soldi e anche questo è un obbligo che noi ci dobbiamo assolutamente rispettare ma non sarà semplice ecco senta in questi giorni c'è stata polemica ne accennava già prima lei sulla questione dell'Ena abbiamo fatto quell'intervista pubblica con la CGL al teatro civico ovviamente si sono scatenati sulla sua frase io le chiedo lei ha detto l'Enel potrà andare via di fronte a Belegoni che diceva bisogna parlare del futuro delle aree dell'Enel perché nel 2021 se ne va lei ha detto testualmente o comunque credo di ricostruire bene l'Enel potrebbe andarsene nel 21 ma potrebbe anche rimanere fino al 28 perché c'è una clausola che gli consente di fare questo ma non ce l'hanno mai detta sta cosa o l'ha scoperta adesso lei? no beh io una delle tante curiosità come primo cittadino ma anche come cittadino avevo e allora quando sono un teatro all'Enel ho chiesto ma quando ve ne andate loro mi hanno detto no 2021 però possiamo rimanere fino al 2028 perché c'è l'EMAS se rispettiamo l'EMAS possiamo chiedere un rinnovo l'EMAS è una certificazione ambientale di un certo tipo quindi si fa certi investimenti allora io il ragionamento però lo voglio fare in modo molto serio e compiuto perché se no non ci capiamo allora la centrale dell'Enel insiste in un comune dove la media dei tumori del mesoteloma pleurico è tra i più alti in Europa primo secondo in questo territorio ci sono i tumori femminili molto più alti della media nazionale quindi questo è un territorio che dobbiamo assolutamente migliorare dal punto di vista ambientale dobbiamo fare di tutto per migliorare l'Enel potrebbe essere una causa non lo so io adesso sto verificando gli accordi firmati per capire anche se c'è una ricerca più ideologica da fare per capire che è lo stato assoluto dei nostri cittadini l'Enel ha detto che va via il 2021 detto questo io spero che sia prima detto questo gli atti cosa dicono che nel piano energetico nazionale lì è prevista una centrale elettrica ok di produzione di energia elettrica ancora oggi c'è l'altra cosa la certificazione l'AIA che hanno o come si chiama il documento amministrativo che hanno prevede quello che vi dicevo prima quindi io farò di tutto perché e se ne va dal prima possibile perché bisogna iniziare la bonifica e dopo vedremo in base al mercato dopo contemporaneamente vedremo in base al mercato che cosa è possibile che si insedi lì però mi pare che la corsa in giro così a occhio non c'è come non c'è l'ARP non c'è lì quindi va benissimo vedere e quindi prevederemo dal punto di vista urbanistico lo strumento più flessibile per vedere e poi una volta bonificato quale tipo di attività insediare ecco un altro problema di grandi opere purtroppo la variante Aurelia che a noi ci servirebbe tantissimo per poter pedonalizzare o comunque migliorare il traffico in città è ferma ormai sono 7-8 mesi che si aspetta questo 3 mesi questa risposta forse anche un po' di più erano bloccati a vabbè forse sì mesi però è ferma non si vede niente ora la ditta minacciava addirittura il licenziamento degli operai 170 operai quindi si tratta di ricominciare a che punto siamo riusciamo a sbloccarla nonostante l'impegno della Regione del Ministero perché il Ministro è venuto in campagna elettorale e aveva assicurato che si stava lavorando se il Ministro lo sblocca farebbe il suo dovere nel senso che purtroppo è il Ministero che c'è una trattativa tra l'ANAS la ditta appaltatrice e quindi il Ministero la Regione per aiutare questo sblocco è disponibile a mettere diversi milioni devo dire che appena abbiamo richiesto i loro interventi sono intervenuti hanno sicuramente fatto una pressione politica molto forte anche economica ora vediamo se entro questo mese si riuscirà a sapere qualcosa è chiaro che siamo preoccupati per i lavoratori che sono stati in cassa integrazione sono in cassa integrazione che se va avanti così rischiano veramente rischiamo di fare un'altra variante aurelia tipo il traforo della foce che dal 1991 siamo arrivati al 2005 a inaugurarlo questo è il pericolo vero se l'azienda se ne dovesse andare pensate cosa vuol dire rifare una gara tipo europeo per quell'imposto anche perché rischiamo che le opere già fatte poi finiscano in malamore ovviamente lì c'è tutto un problema tecnico che speriamo si risolva più presto io purtroppo non ho poteri al di là di rompere le scatole ai potenti di turno ora inizia la campagna elettorale quindi io spero al più presto possibile si risolva questa cosa stiamo facendo pressioni le massime ecco lei a proposito di traffico quando sono stati fatti i lavori in piazza Verdi due settimane fa lei ha detto a parte ha detto che io non la farei questa piazza Verdi la rifarei completamente va bene ognuno sa le sue opinioni però per evitare di spendere quello che andremo a spendere come cittadini perché la manutenzione è carissima lì si dovrà andare a pedonalizzare la piazza perché con il traffico dei bus i lavori li fate oggi poi li dovrete rifare tra sei mesi andando sicuramente avanti di questo passo ecco con la variante oreglia fatta sarebbe più facile pedonalizzare anche piazza Verdi no purtroppo il problema di piazza Verdi è che è il cane che si mangia la coda nel senso che se noi chiudiamo piazza Verdi abbiamo tutti i commercianti che protestano quelli di via Chiodo parla di via Chiodo e quindi tutto il centro città perché andava fatto prima un parcheggio diciamo dal lato di piazza Chiodo allora poi puoi chiudere piazza Verdi e magari animarla con iniziative è complicata la cosa perché abbiamo provato a spostare gli autobus per fare i lavori in Viale Italia durante il mese di agosto avete visto insomma l'intasamento che c'è su Viale Italia i commercianti che hanno protestato stiamo facendo stiamo studiando la cosa ma non è molto facile c'è un algoritmo dell'università che sta lavorando facendo le proiezioni vediamo poi alla fine dovremo decidere insieme al nuovo piano del trasporto pubblico locale perché chiaramente con piazza Verdi in quel modo bisogna studiare una soluzione diversa è chiaro che l'ideale sarebbe chiuderla ma non è oggi possibile proprio perché abbiamo solo Viale Italia come alternativa è difficile pensare a Via Mazzini un utilizzo diverso la variante Anas la variante Aurelia non dà una risposta a un traffico del centro città almeno della maggior parte del traffico del centro città serve le colline serve chi viene da fuori ci si potrà mandare anche un pochettino più di macchine del nord della città o dell'est della città ma sostanzialmente non va a toccare il problema è che piazza Verdi non andava fatta in quel modo purtroppo piazza Verdi non era una piazza era uno slargo lo sapete tutti per mettere in continuità l'arsenale con Migliarina Monta all'epoca l'attuale mazzetta era stato tagliato il collo ai cappuccini proprio qua proprio per dare continuità ora è stata interrotta questa continuità è un problema vedremo se avremo la possibilità di trovare risorse ad esempio per fare delle circolari con piccoli bus elettrici per far sopportare alla piazza un traffico di questo tipo oppure se dovremo chiudere una corsia stiamo studiando con delle simulazioni proprio perché secondo me non vogliamo sbagliare la prossima mossa sarà quella diciamo che dovrebbe darsi le risposte nel tempo senta sindaco mi trasferisco su un piano più politico il Salvini durante la festa della Lega Genova è andato appunto a questa festa a Genova e ha tirato l'orecchio al sindaco Bucci che è il sindaco del centrodestra e gli ha chiesto un'accelerazione sul tema dell'immigrazione ecco lei non teme che la Lega Nord che è l'azionista quindi di maggioranza della vostra coalizione possa esprimere nei prossimi mesi nei prossimi anni sollecitazioni di questo tipo non ho seguito non ho seguito la festa sinceramente della Lega e quindi non so la battuta a cosa si riferiva noi come tutte le amministrazioni normali che sono subentrate a quella precedente abbiamo una situazione e quindi non capisco che cosa dobbiamo cambiare cioè sostanzialmente siamo attenti a tenere gli equilibri a mettere la città in sicurezza abbiamo fatto i provvedimenti contro i parcheggiatori abusivi abbiamo fatto i provvedimenti contro gli ambulanti abusivi ora abbiamo fatto assunzioni stiamo facendo assunzioni per i vigili urbani per garantire la massima serenità alla città si dovrebbero investire ancora in tal senso lo faremo poi non so mi dica lei di che cosa stiamo parlando non so qual è il problema io non conosco adesso lei dice sempre la risposta che dà quando si fanno domande di questo tipo noi abbiamo un progetto e realizziamo il progetto quindi e siamo d'accordo però ci sono dei temi molto visibili su cui appunto la Lega cercherà visibilità e su quelli potrebbe poi non esserci più d'accordo ma comunque queste sono cose che vedremo in seguito chiamaci bene io sono stato eletto al balottaggio con il 60% dei voti quindi la mia coalizione è eterogenea io tengo in considerazione tutte le stanze con il buon senso si risolvono i problemi mi hanno segnalato i problemi per quanto riguarda spazzatura siamo intervenuti per quanto riguarda sicurezza siamo intervenuti per quanto riguarda Piazza Verdi stiamo intervenendo per quanto riguarda anche altri temi che sto affrontando sui servizi educativi sugli insegnanti di sostegno siamo intervenuti cioè siamo al pezzo per migliorare la qualità di vita di questa città infatti ma questo lo vediamo sinceramente anzi uno si chiede a questo punto quanto riguarda la lunga di un'idea che aspettative ci sono tanti perché appunto ci sono stati problemi o non risolti o risolti male e comunque dopo un lungo periodo di ammettere il centro sinistra insomma il cambiamento crea forti aspettative forti speranze ecco quando però comincerà dei no ecco non c'è il rischio che questo rapporto di fiducia questo grande investimento sulla nuova giunta possa incrinarsi possa far vedere qualche crepa guardi io non ho posizione di potere o dei tesori nascosti da custodire per forza sono stato eletto per cinque anni penso che dovremmo essere giudicati fra cinque anni io so che con il buon senso e la massima disponibilità si risolvono tante questioni io sto lavorando diciotto ore al giorno più di così sinceramente non ce la faccio e i miei colleghi di giunta uguale sono tutti disponibili stanno cercando di fare grandi cose abbiamo fatto una bella estate con grandi eventi eventi musicali sportivi quindi noi ce la mettiamo tutta e stiamo cercando di curare tutto poi i cittadini giudicheranno a noi la democrazia perfetto è chiaro una risposta molto chiara senta sindaco lei per fortuna non è parlamentare quindi non si dovrà pronunciare sulla legge dello Ius Soli che provoca molte turbolenze nel mondo politico nazionale però da cittadino le chiedo trova più convincenti gli appelli gli argomenti della chiesa del Vaticano delle agerecchie cattoliche o quelli della Lega Nord che non vuole Ius Soli guardi io penso una cosa noi abbiamo generazioni di giovani che non hanno lavoro abbiamo generazioni di anziani che con una pensione a 400 euro al mese non riescono a mangiare più di una volta al giorno non riescono a pagare le bollette io ho ricevuto più di mille persone in questi due mesi e mezzo che sono a palazzo le posso dire che c'è una povertà di ritorno spaventosa quindi la carità si fa quando hai soldi in tasca se non hai soldi in tasca diventa difficile fare la carità perché se no è come dire io posso fare 2 euro al giorno di carità e ne do un euro al primo che incontro un euro al secondo che incontro e dal terzo in poi gli dico arrangiati quindi è un ragionamento più complesso che va fatto io penso che dobbiamo aiutare i nostri giovani a avere un futuro i nostri anziani a avere una dignità e tutte le persone che vanno in povertà avere una dignità quindi dobbiamo assolutamente ripensare e capire che cosa ci possiamo permettere di fare poi chi scappa da una guerra tutti devono essere aiutati ma questo lo dice la Lega Nord prima di me per quanto riguarda il resto dipende solo da noi se saremo ricchi abbastanza ci mancherebbe ma non mi pare che siamo in questa situazione Sindaco lei ha annunciato parecchi cambiamenti nelle società partecipate e qualcosa ha già fatto qualcosa vedremo cosa farà sono attaccati un po' le poltrone quelle di prima non se ne vogliono non vogliono cambiare tra le società di cui lei ha parlato c'è anche l'ATC l'ATC è un po' alla ribalta della cronaca dopo gli interventi dei sindacati che lamentavano autobus appena comprati marotti troppi autobus nelle officine eccetera eccetera e lei ha detto insomma che compriamo autobus di seconda mano quando noi questi autobus li davamo prima in Africa ecco ma è possibile ridurci con un parco mezzi di quel genere quando gli invalidi non riescono a salire perché non c'è il predellino che si alza o si abbassa come in tutte le città del mondo beh certo se compriamo gli autobus vecchi questo non è possibile perché abbiamo fatto questo? eh questo lo dovrebbe chiedere l'amministrazione precedente che non solo ha nominato delle persone che ci hanno portato in questa situazione ma pensano anche di essere le più brave del mondo e hanno fatto degli utili virtuali nel senso che chi amministra un'azienda di trasporto pubblico locale deve dare un trasporto pubblico dignitoso e rispettoso di quello che sono i cittadini è chiaro che i soldi sono sempre pochi però la nostra azienda incassa 27 milioni di euro all'anno due terzi dei quali dallo Stato e dalle regioni un terzo dei biglietti e qui le scelte sono state fatte sbagliate nel senso che non puoi comprare autobus vecchi di 10 anni in una città come la nostra non puoi non tenere in considerazione che c'è un cambiamento c'è il turismo prima non c'era se ci sono circa mille tra bed and breakfast affitta a camere e alberghi non puoi pensare di avere un trasporto pubblico locale come quello di 30 anni fa di 40 anni fa erano scelte diverse di un'altra epoca di un altro mondo di un'altra società quindi non sarà facile perché rimediare a tutta la situazione che si è creata quindi autobus vecchi che si rompono le manutenzioni stiracchiate eccetera eccetera non sarà facile lì prima si inizierà e meglio è però ripeto io l'ho detto anche l'altra sera nel consiglio comunale negli ultimi 5 mesi chi ci ha amministrato precedentemente ha fatto 59 nomine noi ne abbiamo fatte 3 e sembrava che noi io avessi voglia di trovare chissà quale poltrone chissà mettere chissà quelle persone in quali posti io voglio solo che le aziende partecipate funzionino diano i servizi ai cittadini per i quali pagano profumatamente tasse e biglietti e quindi ci sia un miglioramento ecco lei alla festa dell'elezione in piazza Sant'Agostino aveva annunciato cambiamenti proprio a tappeto nelle partecipate per ora sono pochi però le nomine che ha fatto perché questi vogliono i soldi per andare via vogliono i soldi e io non spreco i soldi dei cittadini farò giudicare i cittadini ogni amministratore in base a quello che soldi vogliono dell'indenità sono stati nominati lo dicevo prima certi durante le elezioni quindi per 3 anni sono stati nominati tutti questi fino all'ultimo giorno vogliono i soldi dunque è venuto da me sostanzialmente per rimettere il mandato l'amministratore unico di ACAM e si è dimesso il presidente di Spezia Risorse e di ATC Mobilità e Parcheggi è un componente del Consiglio di Amministrazione di Spezia Risorse questi controlli resistono il resto resistono tutti che siano liberi professionisti che siano amministratori resistono tutti questa è la realtà questa è un po' insomma anche grave però io penso di sì lei non ha mai pensato nelle nomine di fare anche persone che possono farlo gratis perché ci sono tanta gente che va in pensione a 60 anni che hanno delle professionalità enormi lo fa la chiesa lo fa la caritas di prendere persone che danno il loro volontariato lei non pensa di mettere in qualche società anche un po' di volontari per evitare tutto questo io sono molto serio su questo cioè ci sono degli incarichi che sono gratis alcuni sì abbiamo rinnovato la commissione per il teatro civico sono gratis altri sono rischi veramente imprenditoriali molto importanti e quindi è giusto anche dare il minimo riconoscimento tra i presenti sono molto bassi i riconoscimenti quindi non è che lì sia scialacuato se dai 30 milioni in mano a una persona penso che se noi pensiamo che lo faccia gratis secondo me poi qualcosa che la vedo difficile ecco come principio poi se c'è una personalità che dà disponibilità ben venga ma noi sostanzialmente non abbiamo toccato nessuno per adesso ecco senta lei ha parlato prima di piazza del mercato l'aveva già parlato in campagna elettorale cosa intenderebbe fare? noi iniziamo con una consultazione tra gli operatori chi abita in quel settore l'associazione di categoria per cercare di capire quali sono le esigenze attuali e fare un progetto che risponde alle necessità perché piazza del mercato perché è una piazza igienicamente non a posto e dobbiamo cercare di approfittare di questo periodo per riqualificarla e renderla bella vivibile una piazza di tipo europeo perché se no sta diventando piano piano un luogo di abbandono di bassa qualità dove praticamente solo gli abitanti dei dintorni vanno a comprare in parte in parte vanno ai centri commerciali quindi o accettiamo la sfida e abbiamo il coraggio di fare una cosa bella e nuova o che si ispira comunque ai valori architettonici di Insity oppure piano piano lì sarà sempre peggio la situazione che non avete vista insomma il suo collega di Genova appena insediato ha ridotto la tariffa del parcheggio in città a Genova lei non ha fatto questo ha fatto la mezz'ora del mattino gratis e l'ora e l'ora del pomeriggio sabato pomeriggio qualcuno critico diceva ma proprio al mattino che poi al mattino non passano ancora certo se vogliono pagare loro quei soldi che mancano però non ha pensato a una riduzione invece perché il costo è abbastanza salato chi viene come noi chi viene in città e paga un euro e cinquanta in quasi tutto il centro sono soldi intanto Genova spendeva molto di più noi non abbiamo i soldi per ridurre di più io sinceramente solo per fare queste due manovre quella del sabato pomeriggio e quella del mattino ho dovuto cercare tanti soldi perché poi all'azienda partecipata pubblica devi dargli i soldi bisogna trovarli non sono società che guadagnano soldi lì quando va bene devi aiutarle per chiudere in pareggio o un piccolo inutile quindi è un obiettivo quello di io l'avevo detto di dare parcheggi gratis stiamo lavorando non sarà mi pare di aver capito che ci sono dei mutui molto lunghi molto impegnativi non sarà nell'immediato ma appena troviamo le risorse sicuramente è un obiettivo quello di far arrivare la gente in città senza problemi qualcuno ha parlato di un parcheggio di un accordo di trovare un accordo se è possibile con la marina militare per un parcheggio dentro l'arsenale è utopia è una delle richieste che io ho fatto all'ammiraglio il primo giorno che l'ho incontrato vediamo le risposte della marina militare questo potrebbe essere il toccasana per il centro forse non il toccasana potrebbe essere un primo segnale significativo ma noi abbiamo bisogno di più posti obiettivamente non saranno sufficienti 150-200 posti è un segnale positivo è una città che ha tanti problemi dal punto di vista dei parcheggi mancano gli spazi sono state fatte le scelte un po' particolari e ora è difficile mettere mano a questo tema stiamo studiando di rimettere gratis via Le Fieschi in modo che comunque daremo un altro segnale nei confronti di quello che hai detto cioè cerchiamo di lavorare per gradi in modo che quello che si fa è sicuramente una cosa fatta bene e che regge in prospettiva Sindaco tra i grandi progetti non abbiamo parlato ed hanno alcuna grave che voglio subito colmare dell'ospedale del Felettino perché purtroppo sembra quasi che dall'ospedale si debba occupare la regione e l'ASL ma il comune invece ha i radar ben piantati ben puntati su questo progetto noi non abbiamo competenza in merito la competenza è della la società della regione Liguria di IRES e PA che per decisione della giunta di centro-sinistra ha fatto l'appalto un po' particolare unico in Italia avete visto che è osservato dall'ANAC per adesso ha proceduto all'abbattimento del vecchio manufatto ci sono oltre 10 milioni di riserve di riserve mi pare che ora ci siamo una movimentazione di terre da spostare e poi dovrebbe iniziare il manufatto mi pare che c'è un problema legato alle varianti adesso vediamo noi purtroppo siamo osservatori esterni facciamo pressioni perché si faccia il prima possibile ma certo servirà i suoi cittadini servirà tutti gli spezzini purtroppo quella è un appalto particolare in cambio del vecchio Sant'Andrea quindi è cofinanziato da chi ha vinto l'appalto con un progetto è una cosa molto delicata la stiamo seguendo però non abbiamo competenze dirette senta Sindaco lei ce l'ha un sogno un sogno che non è un progetto un'idea progettuale una cosa che ha condiviso con i suoi colleghi gli amministratori eccetera una cosa che vorrebbe vedere realizzata ma pensa che sia di difficile realizzazione ma che le piace coltivare come un sogno guardi sogni ne ho tanti purtroppo però non sono abituato a dire cose che poi non si possono realizzare noi stiamo lavorando su tanti temi dicevo quello di Piazza Mercato però sui giardini stiamo pensando a un progetto di riqualificazione importante stiamo ragionando sul waterfront stiamo ragionando su tante questioni anche quella del traffico di Piazza Verdi ma io voglio essere molto concreto Sindaco un'altra cosa ne ha già parlato Renzo prima il rapporto con i comitati ora questa cosa qui della cernaia degli alberi alcuni dicono insomma sì c'è l'intervento della soprintendenza che dice che non vuole i tiranti non vuole le ringhiere dove si appoggiano a quest'albero pericolante eccetera eccetera però è anche vero che insomma tutta questa storia è stata portata avanti dai funzionari comunali che c'erano prima che sono rimasti con lei qualcuno dice ma come mai si cambiano i sindaci e non si cambiano i funzionari comunali come mai beh insomma non è che siamo nati ieri lo sapete tutti che sono a tempo indeterminato si possono ruotare si ruoto un architetto con un avvocato la legge lo prevede no no la legge non lo prevede un ingegnere può fare l'ingegnere deve firmare i progetti degli ingegneri magari ma non è così questa cosa l'aveva proposta lo stesso PD mi pare all'inizio era una promessa del vostro schieramento o sbaglio io infatti ho cambiato il comitato di direzione io tutto quello che posso potevo fare l'ho fatto quindi non è che non posso fare altro cioè una persona a tempo indeterminato non la posso licenziare né lo posso ne posso ripeto mettere magari un architetto a fare il lavoro di un avvocato e viceversa quindi i cambiamenti si faranno ma detto questo mi pare che i tecnici non mi pare è così eseguono e realizzano i progetti politici delle giunte che si susseguono quindi se io dico dobbiamo fare piazza del mercato nuova i tecnici fanno piazza del mercato nuova se gli dico buttate giù tutti gli alberi dei giardini faranno quello cioè è chiaro compatibilmente rispettando le leggi e i progetti però non è che i tecnici gli obiettivi se li danno da soli voi lo sapete ci sono anche degli incentivi sono pagati sul raggiungimento degli obiettivi quindi adesso demagogia è un conto la serietà è un'altra sì però che la burocrazia comunque le burocrazia istituzionali in qualsiasi ente dai ministeri ai comuni detenga un potere che a volte è superiore agli stessi poteri di cui dispone un assessore è innegabile questo è innegabile questa è realtà questa è realtà purtroppo poi ti scontrano queste cose io vi devo dire che comunque nel comitato di direzione del gruppo di dirigenti è stato cambiato tutto ho cambiato segretario generale quello che potevo fare lo farò cercherò di incentivare un po' di pensionamenti per assumere gente nuova però ci vuole il tempo che partita giocherete sull'aggregazione ACAM-IRA la partita la partita l'hanno giocata a quelli di prima purtroppo non si può più fare nulla è difficilissimo è stata fatta una gara sono state determinate condizioni purtroppo ACAM è in una procedura fallimentare da sei anni quindi per adesso non ho trovato persone o società che vogliono investire alla Spezia quindi l'azienda in virtù della gara e di IREN stanno preparando il contratto di investimento che poi dopo noi dovremo portare nei consigli comunali io oggi non ho alcun elemento concreto per far sì che questo non accada ma ripeto sono scelte che purtroppo sono state fatte prima del nostro arrivo ecco prima che il percorso fosse tracciato sul piano dei rifiuti ecco se lei ci fosse stato fosse stato allora cosa avrebbe fatto di diverso? io avrei fatto concordato in continuità per quanto riguarda ACAM avrei fatto pagare le banche e non gli spezzini e i lavoratori e quindi avrei salvato l'azienda l'avrei organizzata come tutte le aziende normali che un'azienda che si è organizzata bene produceva degli utili non sarei passato al porta a porta avrei fatto una scelta sui bidoni intelligenti e quindi un sistema completamente diverso che voleva dire anche far pagare le tariffe il 40% in meno ai cittadini e beh questo è comunque l'obiettivo che noi abbiamo e io entro la fine legislatura raggiungerò Sindaco qualcuno dice che questa cosa qui del porta a porta lei appena eletto abbia provato a chiederlo a Garavini che è l'amministratore di ACAM di dire ritorniamo ai cassonetti intelligenti non i vecchi cassonetti però pare che dicono poi non so lei ce lo potrà chiarire che insomma l'amministratore gli ha detto vai a parlare tu con le banche è possibile sostanzialmente nelle tre ipotesi che noi abbiamo chiesto ad ACAM quindi di gestione dei rifiuti una era quella di passare completamente ai cassonetti intelligenti sul modello di Portovenere servono 12 milioni di investimento ACAM non è nelle condizioni quindi non è che non l'abbiamo voluto fare è proprio un'ipotesi che non abbiamo neanche potuto prendere in considerazione in questo momento proprio per questo motivo ecco senta per i rifiuti sindaco le chiedo l'ultima cosa su Saturnia c'è un progetto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del sito c'è mica il pericolo che possa essere riaperta a Saturnia su questo la regione ha detto di no quindi ha detto di no due volte nel senso che il progetto non è stato approvato ecco perfetto sindaco un'ultima cosa un'ultimissima cosa qualcosa è cambiato nel in città soprattutto nelle ore notturne la città sta vivendo perché la città è bella è vivibile alla sera la gente esce va nei locali sono tantissimi locali piccoli grandi e la gente i nostri ragazzi non vanno più a Sarzano o in Versiglia ma trovano giustamente da divertirsi qui in città attraverso i locali la cosa bella è che si cominciano a vedere anche i vigili a piedi che girano fino alla mezzanotte la polizia gira ecco c'è qualche progetto per intensificare poi ci sono ancora qualche episodio grave lo riscontriamo ancora nella cronaca però è già un segnale che insomma la città vive avete qualche progetto per farla vivere ancora meglio trovando un accordo senza disturbare perché poi ci sono quelli che si lamentano però insomma un po' l'estate è stato un primo segnale questo sì beh innanzitutto io devo ringraziare il corpo dei vigili urbani come i lavoratori che hanno pulito la città in questi mesi la stanno pulendo in modo straordinario perché abbiamo chiesto uno sforzo importante loro hanno detto di sì da subito sono messi veramente a disposizione entro novembre entreranno in servizio altri 13 vigili urbani a quel punto noi riorganizzeremo il servizio con un modello nuovo il vigile di quartiere diciamo il servizio su 24 ore per diversi mesi all'anno insomma quando necessitano è un'integrazione maggiore con i corpi di polizia carabinieri quindi a quel punto avremo una città sotto controllo soprattutto perché integriremo con un servizio di videosorveglianza i punti più caldi della città e questo sicuramente darà delle garanzie anche per chi vuole investire vuole divertirsi vuole ulteriormente implementare tutte le programmazioni che noi abbiamo fatto la programmazione ad esempio d'inverno c'è una programmazione teatrale molto bella c'è tutta una serie iniziative sportive che stiamo sviluppando ci sono tante cose che poi vi faremo conoscere da qui a due tre anni quattro anni avremo delle altre opportunità cioè il waterfront che poi magari parleremo un'altra occasione il discorso della riqualificazione dei giardini avete visto solo come abbiamo fatto vivere il palco della musica per tre sere di fila dove i gruppi locali si sono alternati gratuitamente a suonare continuamente e tante altre iniziative che vorremmo riproporre ma che ve le presenteremo una alla volta perché non bruciare tutto subito esatto esatto bene e il tempo a disposizione il sindaco per noi è trascorso in fretta ma è trascorso abbiamo sentito tante cose nei programmi del sindaco speriamo insieme al collega Raffaelli di aver fatto le domande che avrebbero voluto i telespettatori la ringraziamo e alla prossima grazie grazie